Do you wanna know a secret? Rain, adesso tocca da Nail, tutti i nomi uguali quasi hanno E queste qua sono sfere statistiche delle unità che porto Ramna con solo a 66, col super a 6 Poi abbiamo lui, esatto, col super a 5, devo portarlo avanti È Enric Poi abbiamo il grandissimo come non portarlo Poi abbiamo Skullmold, col super a 2 E poi la bellissima Maxwell, che non porteremo mai avanti La lasceremo al 18, guardiano con il rival 1 No dai, prima o poi la porterò avanti, lo prometto Prima o poi Anche perché è utile È utile portare avanti Maxwell perché vi servirà in tante occasioni In fronte a Raunter, Dungeon Andiamo a fare il livello 6 Non mi ricordavo di averlo già fatto il livello 6 Comunque, vabbè Però non ho mai preso l'unità, non ho mai preso a Nail Anche se mi piace Ci avrò provato un po' di volte ma Ma nulla, nulla Questa volta speriamo Questo qua è l'equipaggiamento che voglio portare Una fuocolite, una sigillo fuoco Cioè sono 5, ne ho fatta una solo di fuocolite Di sigillo fuoco ne avevo passato L'Elysir forse non l'ho portato perché Non è troppo difficile Questo dungeon qua E sono sicuro di riuscire a batterlo subito E poi perché mi stanno finendo le noci di coca Quindi non ho voluto portarlo E vi faccio vedere le statistiche Allora A Nail con la Leader Skill Probabile grande aumento della barra Brave Bar si è attaccato E il probabile recupero di PS si è attaccato Quindi c'è il 50% di recuperare 4-6 cristalli E il 40% di riempire la barra dei PS del 20% si è attaccato Il Brave è come il Super di Melchio Quasi la stessa cosa Però con colpi di meno Fa 13 colpi di fuoco, acqua, terra e tuono Mentre il Super fa 16 colpi Fuoco, acqua, terra e tuono E li aggiunge come elemento all'attacco per 3 turni degli alleati Fuoco, acqua, terra e tuono si intende E' un danno un po' bassino anche perché aggiunge 4 elementi Ma vabbè Le statistiche le vedete Allora Anima è buono Poi direi che si va sul Breaker Lord, Guardiano e Oracolo Poi gli Imp 750 sulla vita 400 sull'attacco Direi che E' perfetto Il Dungeon non è molto difficile Però vi voglio dire solo una cosa Se uccidete prima Perché Anail come tutti gli altri E' accompagnato da un amico Chiamiamola così Se uccidete subito l'amico Anail si potenzia un po' Quindi State attenti Uccidete prima Anail Tanto Tanto non è facile distruggere l'altro Ritornando al gioco Siamo arrivati al boss Ecco l'elfo intendevo Allora Curiamo Maxwell Perché la mortascia Se no non ha effetto Dato che aumenta i colpi critici Se la vita è piena Diamo la tonolite S-Jets S-S-S-S-Gillo E Flauto Allora Si incomincia prima di tutto Con Maxwell amico Perché al super a 10 Il mio Maxwell fa schifo Uno Due si va di Ramna Che aumenta l'attacco Tre si va di Enric Perché fa schifo Ad attaccare Ci mette tantissimo Poi Luther Scala il modello Finale il mio Maxwell Boom Chissà chi è Che ha tolto così tanto Luther E Boom Baby Copyright Qua mi chiamano Mi scriveranno per il copyright E vai Grande Preso nel Sì 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 Speriamo solamente il tipo Speriamo in animo ovviamente Allora 33.000 Di Zell 21.000 di karma Ok Gli oggetti Vabbè E E Va che carino Aspettate che faccia lo screen Ok Vai Perfetto Che succede? Pensi davvero che ne sia all'altezza? Sì Sì Ed è Anima Sì Anima Yeeey E vai Che fortuna però Anche il reino l'ho preso a primo colpo Anche se era lord Va bene Stesso Perfetto Bene 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 Allora fammelo Fatemelo andare a mettere nei preferiti Mi sto riempiendo le unità Anche se sono un po' di spazio 174 Cavolo Ok Ho aggiunto nei preferiti Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi sia stato utile Nell'affrontarlo Se non avete Maxwell Cercate di averlo come amico E Il dungeon si può fare anche con altre unità L'importante è che portate anche un mitigatore Nella vostra squadra Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Seguite anche gli altri video Le pagina Facebook Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.